La posizione del Movimento 5 Stelle, riuniti in una convention a Piana degli Albanesi, annunciano mai alleanze con nessuno, chi appoggerà il PD sarà fuori dal Movimento, poi la fondola è Terrenzi, marionette dei poteri più forti. Il Movimento 5 Stelle non fa alleanze, qualora, dato che il PD oggi ha la maggioranza, qualora arrivasse in questo Parlamento incostituzionale, abusivo, e non lo dico io, lo dice la Corte, una proposta di legge, per esempio, di reddito di cittadinanza, perché i cittadini delle stanno male, noi saremo non contenti di più di votare le proposte giuste che arrivano dal PD. Purtroppo il dato di fatto è che sono dieci mesi che dal PD, da questa maggioranza, non è arrivato nulla, solo presa in giro.